Buongiorno a tutti, io sono Rachele Francese, sono una dottoranda presso il laboratorio di virologia e microbiologia del professor Lembo, presso San Luigi Gonzaga di Orbastano. Nel nostro laboratorio ci occupiamo di studiare molecole di origine sintetica o naturale che possono sconfiggere i virus che noi studiamo. Studiamo dai virus più comuni, come può essere l'herpes virus oppure il virus del raffreddore, a virus un po' meno comuni, come per esempio quelli trasmessi dalle zanzare, come può essere per esempio lo zika virus, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare in numerosi articoli che sono usciti sulla stampa internazionale. Per quanto riguarda la notte dei ricercatori, noi abbiamo pensato uno stand che abbia un argomento un pochino più ampio, quindi la microbiologia. Il nostro stand si chiamerà il Micromondo e parlerà non solo dei virus ma anche dei batteri. Ci saranno a disposizione dei microscopi attraverso i quali noi potremo osservare direttamente i batteri presenti all'interno della nostra bocca. Quindi con un piccolo esperimento coloreremo i batteri presenti nella bocca di qualche bambino o ragazzo che verrà a trovarci e dopodiché lo osserveremo al microscopio. Porteremo anche diverse piastre attraverso cui sarà possibile osservare i batteri presenti per esempio sul nostro cellulare oppure sulla tastiera del nostro computer, sugli oggetti di uso comune. Pertanto vi aspettiamo alla notte dei ricercatori, il 27 settembre, al Museo Egizio, allo stand Il Micromondo.